Buongiorno, no, no, non è frustrante, non è assolutamente frustrante, io non sono assolutamente frustrato, anche perché la stagione comunque sta andando come da previsione, stiamo assolutamente rispettando tutti quelli che erano gli obiettivi stagionali, il quinto posto è ben lontano, non c'è nessun tipo di problema, tanto lo scudetto non si poteva vincere e quindi io non capisco tutta questa polemica che sto leggendo in queste ore, perché comunque la Juve sta facendo un campionato super dignitoso, l'importante è comunque arrivare nei primi quattro, suona male, mannaggia se suona male sta roba, mannaggia se suona male sta roba, ma meno male che suona male ragazzi, meno male che suona male, scusatemi la ripetizione, meno male che siamo incazzati, meno male che ci girano le palle e non è il discorso di non vincere lo scudetto, è il discorso di fare anche un pochino i seri, perché la Juventus è una roba diversa, il campionato che finisce nei primi quattro non è un campionato alla testa della Juve, una Juve che adesso può farsi scavalcare dal Milan, se il Milan vince la Juventus va al terzo posto, è un bel problema, tanto io però vi ringrazio, vi devo ringraziare perché siamo arrivati a quota 236.000 iscritti, quindi tanta roba, se volete lasciare un mi piace di supporto o un commento o un'iscrizione, perché l'obiettivo è arrivare a 250.000 entro maggio, mancano tre mesi al decimo anniversario di questo canale YouTube, siamo ben lontani di 250.000 però, cerchiamo almeno di avvicinarci. Allora, l'intervista post partita che mi è piaciuta di più è quella di Alessandro, devo essere onesto con voi, Alessandro che dice io ogni volta che ho iniziato un campionato con la Juve, il mio obiettivo era quello di vincere il campionato anche quest'anno, questo è il modo di ragionare e anche di parlare, anche di parlare, perché siamo stati tutto l'anno a dire che si parlava di quarto posto per mantenere l'equilibrio, essere tranquilli, ragazzi, vedete che poi queste sono cavolate, lo vedete che siamo scoppiati lo stesso, anche se parli di quarto posto e togli tutte le pressioni e le squadre non scoppiano, anzi, questa squadra ce l'ha confermato anche Alessandro oggi, aveva proprio in quel sogno lì la benzina, in quel sogno lì, e quando è venuto a mancare quel sogno lì è venuto a mancare anche la terra sotto i piedi, è stato come costruire una casa su un terreno che non poteva reggere il peso di una casa ed è crollato tutto, Alessandro ha parlato di concentrazione, ha detto avevamo basato tutto sulla concentrazione, ed è un riassunto tanto banale quanto vero, perché la Juve era completamente basata sulla concentrazione, però a me dà fastidio sentire poi l'analisi attenzione ai dettagli, che è quello che ha detto Rabeu. Ragazzi, se noi all'interno di questo filotto negativo, Empoli, Inter, Udinese e Elas Verona, andiamo soltanto a basarci su quella che è l'attenzione ai dettagli dei gol subiti, non ne usciamo più, non ne usciamo più. Rabeu dici una frase che qua tanto facile quanto difficile, perché dobbiamo solo fare più gol senza prendere altri gol. Hai detto, dobbiamo solo vincere le partite senza perderle, dobbiamo solo vincere tutte senza perderne neanche una, cioè non hanno senso, è la cosa che mi dà noia, che poi arriva Allegri e dice l'analisi di Rabeu sulla concentrazione, sulla tensione ai dettagli, è la cosa giusta, esattamente come ieri o due giorni fa in conferenza stampa ormai. Allegri dice in questo momento prendiamo gol con troppa facilità, la cosa che non dobbiamo assolutamente sbagliare è l'atteggiamento. Ed ora io dico, mister, è il terzo anno, nel primo anno siamo arrivati, quarti facendo una rincorsa sull'Atalanta miracolosa perché sembravamo destinati a non arrivare neanche in Champions. L'anno scorso tutto casino extracampo, ma prima il peggior giro nei Champions della nostra storia e alla fine la Juve che comunque non vince trofei e arriva al terzo posto. Pari punti con la quarta. Quest'anno, che in questo momento qui rischiamo di farci scavalcare dal Milan e andare al terzo posto, secondo me non è quello che dobbiamo guardare, mister. Per me non assolutamente perché è vero che in questo momento prendiamo troppi gol e lo prendiamo con troppa facilità, ma in tre anni, in tre anni abbiamo sempre fatto gol con facilità. Adesso ne prendiamo troppi con facilità, ma ne abbiamo sempre fatti a fatica. Perché non iniziamo a migliorare questa roba qui? Senza parlare di dettagli, dell'attenzione, dell'atteggiamento che sono concetti non importanti, sono fondamentali. Cioè l'attenzione, la difesa, l'atteggiamento sono tutti concetti fondamentali. Ma come fanno a non essere fondamentali allora la costruzione o la finalizzazione o il cercare di costruire qualcosa che sia diverso da o palla lunga, o palla nella mischia su piazzato, o palla su esterno e cross dentro? Perché in tre anni questo è il riassunto più dettagliato della Juventus. Questo è tutto quello che abbiamo visto. Cioè, in un momento del genere, vi dico, non stanno arrivando i punti che prima magari facevamo sulla mischia, sul calcio d'angolo, sulla ripartenza, quello che volete. Torniamo a pressare Aldo come facevamo in inizio stagione. Siamo tornati indietro perché abbiamo perso una partita dal pressing alto, che è Sassuolo vive 4-2. Adesso che abbiamo fatto due punti in quattro partite, non possiamo fare il passo avanti? Dobbiamo rimanere qua a parlare dei dettagli, dell'attenzione, della roba del genere. Allegri dice una frase, dice, il calcio è così, ci metti tanto a costruire e così poco a distruggere. Allora mister, io voglio leggere questo dato. 135 partite giocate, da quando Allegri è tornato in panchina, nell'Allegri, 135 partite giocate. 208 gol fatti, quindi una media di 1,5 circa a partita, un gol e mezza partita. E 127 gol subiti, 0,94 di gol subiti a partita. Su 135 partite abbiamo preso 127 gol. Significa che la fase difensiva non è che l'abbiamo migliorata così tanto. E su 135 partite abbiamo fatto 208 gol, che significa che siamo anche molto distanti da una fase offensiva di livello. È come dire che in media facciamo un gol e mezza partita ne prendi a 0,9. Come si fanno a vincere queste partite? Niente difficile, eh? Se ne fai pochi e ne prendi tanti. Quindi dato che comunque li prendi, anche se la volontà è cercare di non prendere, ma proviamo a fare qualcosa di diverso. Perché per distruggere quello che si è costruito bisogna aver prima costruito qualcosa. E noi in tre anni non abbiamo costruito tanto. Abbiamo sempre solo avuto questi periodi 5, 7, 8, 10 partite di risultati utili consecutivi. E poi, momenti in cui i risultati utili non arrivavano. Perché? Per un discorso fisico, perché? Per un discorso fortuito, per mille motivazioni. Ma poi la base è sempre stata quella. Palla sull'esterno, palla dentro l'area, palla lunga, palla da un piazzato. Se no, noi non riusciamo a fare le nostre cose. Quindi per distruggere prima bisogna costruire. Non è che ci metti tanto a costruire, poco a distruggere. Perché Allegri poi dice, non è che la squadra non fa. È che fa ma non basta per arrivare alla vittoria. La buona partita è stata fatta, ma sono partite che non bastano per vincere. Però la domanda che vi faccio io è, secondo voi, perché per Allegri queste partite non bastano per vincere? E la risposta ce l'ha già data innumerevoli volte. ha maggior ragione in queste settimane, che è proprio il suo punto di ripartenza. Dobbiamo tornare a subire meno gol. Certo, indubbiamente, anche perché la Juve in questo momento qui deve anche mettersi in discussione, guardare un attimo la classifica di Serie A. Se prima poteva dire, beh, allora la puntata è tutta sulla difesa. L'Inter in questo momento è di gran lunga la miglior difesa e la Juve sta iniziando ad avvicinarsi a quelle che sono le difese delle altre. Decisamente ad avvicinarsi. E dato che il quarto posto in questo momento non è in discussione, ragazzi. Perché in questo momento non è in discussione. Cioè, se la Juve torna a vincere 4-5 partite, cavolo, ce l'ha assicurato. Poi è ovvio che c'è degli scontri diretti. C'è il Bologna, c'è la Roma, il Milan, ormai non lo conto neanche più, c'è l'Atalanta. Ci sono delle squadre che sono le attaccate. Ci sono delle squadre che sono le attaccate e sarà tosta. E sarà tosta. Però invece che ragionare sempre solo sui dettagli e non prendere gol. Perché non proviamo a fare quel passo avanti di mentalità? Perché non proviamo a mettere in discussione tutto? Ma perché? Perché dobbiamo sbatterci la testa? Perché dobbiamo continuare a ripeterci le stesse cose in continuazione? Perché poi dopo ci prendiamo in giro, eh? Cioè, l'inizio del video di oggi non era una roba... Ecco, se poi devo sentire, ma sì, comunque la stagione è buona perché entri nelle prime quattro. Ma ragazzi, ma ci ricordiamo come stiamo in questi periodi qua, in questi momenti qua? Forse non... forse no. Se dobbiamo raccontarci che ci vanno bene queste stagioni perché tanto arriviamo a giocare la Champions dal 2011. Non è il modo di ragionare, eh? Ve lo dico chiaro e tondo. Ci vediamo dopo per le pagelle. Fate i bravi.